Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Il fascino del vizio, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ogni uomo vive un vizio in una maniera particolare, cioè se ne porta il gioco che ne produce e da esso trae la forza e l'ozio che lo introduce in una sfida triste e abbastanza strana. Ogni uomo ha un punto debole e da esso dipende fermamente. Ecco, il fascino del vizio è abbastanza degno di disapprovazione perché cattura tanta ma tanta gente. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Il fascino del vizio. Ogni uomo vive un vizio e se ne porta insieme il gioco, da esso trae forza e ozio, è una sfida di triste impatto. Ogni uomo ha un punto debole e da esso dipende fermamente. Il fascino del vizio è riprovevole e cattura tanta ma tanta gente. Il fascino del vizio ci illude, ci porta a pensare in grande, ma quando ci accorgiamo delle beffe è troppo tardi irreversibilmente. Dovremmo agire in preventivo per eliminare tale errore. È un consiglio vero ma duro che ci possa aiutare nel futuro decisamente. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.